questo programma è fatto da bella e monella cosa vuoi fare e tipo di musica e poi si metti a ballare no così no per farlo vedere così vai no no piacere che tu sia piacere piacere che tu sia piacere perché tu non è stato bene ecco come ballare in modo studio che sono i balli casuali ciao questo programma è stato offerto da bella e monella posso dire un commento? sì schifo è meglio grazie a tutti